Oggi parliamo di metaverso e di professioni legati al metaverso, lo facciamo con un esperto, Aaron Brancotti, sviluppatore, esperto di realtà virtuale, realtà estese e anche di videogiochi, nonché autore di Metaverse Architect insieme ad Alessio Mazzolotti. Ciao Aaron, grazie per essere qui con me oggi. Ciao Vincenzo, grazie a te per l'invito. Senti, innanzitutto ti faccio i complimenti per il libro estesi anche al tuo collega di scrittura perché è un testo molto concreto che si focalizza molto sulla professione di architetto del metaverso di cui parleremo fra un attimo. Ma vorrei iniziare prima con chiederti qual è la definizione di metaverso che più preferisci e perché. Ma allora, visto che ci abbiamo scritto il libro, un libro riporto quello sostanzialmente perché è nato questo libro, proprio perché ci siamo resi conto che essendo il metaverso un media completamente liquido, fluido, era anche difficile. Ci hanno chiesto di scrivere questo libro e la prima cosa che ci siamo chiesti è stata appunto come lo definiamo e quindi siamo partiti da questa definizione. Per cui, in pratica, secondo noi, prima di tutto, all'interno della definizione di metaverso bisogna necessariamente parlare di spatial computing. Questa cosa, voglio citare un aneddoto, questa cosa è successa sei mesi prima che Apple parlasse di spatial computing quando ha presentato il suo caschetto. Non che noi si abbia inventato qualcosa di particolarmente geniale, però è importante notare questa cosa, è importante notare proprio come Apple abbia volutamente evitato di parlare di metaverso, proprio per questo motivo. Perché nel frattempo meta aveva completamente bruciato questo concetto, oltretutto agganciando il concetto di metaverso a quello dei mondi virtual worlds, che sono solamente una parte di questo metaverso. Perché sono solamente una parte? Perché oltre al concetto di spatial computing noi abbiamo visto nella distribuzione lungo tutto l'asse del reality virtuality continuum una necessità, cioè metaverso vuol dire che è qualcosa che si spalma dalla realtà reale della Internet of Things fino alla realtà aumentata, fino alla realtà virtuale. Quindi è qualcosa di estremamente fluido ed è qualcosa di esperibile a moltissimi livelli, grazie anche al fatto che c'è un terzo pilastro, noi questi li chiamiamo i pilastri, quelli che noi chiamiamo i pilastri del metaverso, sono quattro. Il terzo è il fatto che il metaverso deve essere un ambiente condiviso, un ambiente sociale, quindi deve essere in qualche modo persistente, in qualche modo condiviso, in qualche modo deve permettere appunto delle dinamiche sociali. E l'idea appunto verso la quale noi siamo orientati è proprio quella che lo stesso ambiente reale al quale vengono sommati via via dei layer digitali possa essere appunto esperito in maniera sincrona da più persone. Quindi chi attraverso caschi, chi attraverso device computer, eccetera, eccetera, una cosa che a noi preme molto è che è proprio l'ubiquità della possibilità di questa fruizione. Siamo molto affezionati alle tecnologie web da questo punto di vista, siamo molto affezionati a WebXR anche se nonostante quello che ha combinato Mozilla chiudendo apps, proprio nel momento in cui tutti invece si stanno rivolgendo a questa tecnologia WebXR che permette appunto la creazione di mondi virtuali su web. Quarto pilastro invece è l'altro lato della medaglia, secondo noi è lo scopo, il purpose, secondo noi affinché un metaverso, secondo noi ce ne sono tanti di metaversi, non è vero che ce ne deve essere uno solo, così come non è vero che esiste una sola rete, esiste anche il dark web che noi normalmente non vediamo. Secondo noi un metaverso deve avere uno scopo, altrimenti la sua accettazione, la sua adozione non funziona. Nel libro facciamo infatti alcuni esempi di metaversi che hanno avuto più o meno fortuna proprio in base al fatto che abbiano un purpose forte, cioè se devi fare simulazioni scientifiche di un certo peso utilizzi Omniverse che è potentissimo da quel punto di vista. Se devi fare altre cose eccetera 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 insomma. Questi sono veramente in cinque minuti le quattro dorsali lungo le quali si sviluppa il nostro libro. E quindi sicuramente una cosa che dici nel libro, la blockchain che per alcuni è un pilastro del metaverso, in realtà non ha senso che lo sia? No, allora sono tutte cose molto interessanti e molto utili. Sappiamo benissimo che con l'amina l'amico Neil Stevenson ci ha messo il chip, quello grosso a proposito della blockchain. Siamo tutti d'accordo che è una tecnologia eccezionale, siamo tutti d'accordo su tante cose, però per esempio quando io leggo che si vogliono sostituire i database con la blockchain dico non avete capito che cos'è un database? Perché la blockchain è lenta, cioè la blockchain non è un database, è sicura, ma non è capito? Sono due cose completamente diverse. Un metaverso deve necessariamente avere un sistema economico? No, secondo noi no, secondo noi no. Quello che abbiamo fatto è abbiamo fatto tonnellate di roba con Mozilla Hubs e adesso stiamo facendo anche un programma di studi con l'università cattolica dove stiamo portando lo studio sul metaverso nel senso utilizzando vari tipi di tecnologie basate su extended reality, ecco, lì non servono i soldi, capito? Lì non serve un sistema economico, non necessariamente. Poi è chiaro che sono tutti plug in, ecco, altra cosa che si cita spesso l'apertura, no? L'open del metaverso, ma neanche quella mi sembra diciamo una condizione essenziale. Come dicevo prima, l'omniverse non è open. Certo, sarebbe bello se un giorno, se a tendere saremmo molto contenti, se tutto fosse open, se tutto fosse alla luce del sole, se non esistessero wallet gardens, eccetera, eccetera. Però di fatto la situazione adesso è frammentata e non può essere altrimenti, è un po' come eravamo pre-HTML, non so se ti ricordi, negli anni 90, no? L'esplosione dei, come si chiamavano, i vari protocolli per costruire documenti, gli hyperlinks, gli iperdocumenti degli anni 90, insomma, no? Ce n'erano una quantità assurda. Poi dopo ha vinto l'HTML. Però, ecco, è un po' quel momento lì e questa è un'altra cosa che continuiamo a dire, che dobbiamo imparare dalla storia, perché questo è esattamente il momento cambriano di tutta questa tecnologia, no? Dove succede di tutto e di più e vedremo come si sviluppa, vedremo chi vince, vedremo il Metaverse Standard Forum, cosa riesce a imporre, a combinare, vedremo cosa combina Apple, che come sempre si vuole fare le robe, come dice lei. Già il fatto che abbia sposato WebXR è una cosa incredibile. Senti, quindi facciamo un attimo lo scenario per chi magari ha perso un po' di puntate, diciamo, qual è la situazione del Metaverso, tra virgolette, citando un po' anche le attività degli attori principali, no? Diciamo che in questo momento, come dicevo, gli standard sono belli perché ognuno ha i suoi, quindi abbiamo da una parte Apple che sta andando per la sua strada. Da un'altra parte, diciamo, un attore che io ritengo importantissimo da tenere d'occhio è sicuramente Epic, che con Fortnite ha fatto proprio una prova di forza, ha dimostrato che riesce a fare delle cose pazzesche. Nell'ultima versione di Unreal Engine hanno iniziato a integrare il supporto proprio per i caschi Apple e questa è una notizia importantissima perché sappiamo benissimo che Epic e Apple si erano presi a pizza in faccia con la storia appunto delle vendite in store proprio di Fortnite. Per Fortnite, per Fortnite, Epic ha addirittura sviluppato una versione specializzata di Unreal Engine e un linguaggio di programmazione apposta, proprio per sviluppare metaversi. Poi, ancora una volta, ripeto, quei metaversi lì ancora sono un po' monkey rispetto alla nostra visione, nel senso che attualmente non lo puoi vivere con un casco, Fortnite certamente non è ubiquo, non vive sul web, eccetera. Però, capito, è anche una questione di volano tecnologico, lo vediamo mano a mano che avanza, le macchine diventano sempre più potenti, i browser diventano sempre più potenti. È innegabile che il browser ormai sia una macchina universale che riesce a fare delle cose incredibili. Quindi Epic lo vedi posizionato bene sia da un punto di vista, diciamo, tecnologico che da un punto di vista di creazione, creatore di contenuti. Assolutamente, assolutamente sì. Apple invece, appunto, con il Vision Pro, come la vedi? Più orientata sul mercato più professionale al momento, ma arriverà anche al mercato? Allora, è bestiale perché nasce per quello, però non passa giorno in cui non si veda che la tal software house ha portato il tal game sul Vision Pro. Ogni giorno ne rilasciano uno e allora uno dice, forse non stiamo capendo qualcosa perché se le software house che sono specializzate nello sviluppo di videogiochi portano i loro giochi sul Vision Pro, pensano che ci siano degli utenti che hanno speso 4.000 dollari per utilizzare quell'affare lì poi per giocare. Capito? Secondo me ci sono un po' di analisi di mercato che sono sfuggite un sacco di gente perché a priori il posizionamento di quel casco lì era tutto da un'altra parte. Cioè nessuno se lo aspettava questa cosa qui. Meta invece come la vedi da un punto di vista proprio di rilascio tecnologico? Allora, Meta secondo me ha un po' di problemi. Adesso ultima notizia che hanno litigato con chi stavano facendo i caschi, con Samsung, con LG, non mi ricordo più. Comunque hanno litigato con i loro partner e hanno deciso di licenziare il loro sistema operativo in modo che altri possano costruire dei caschi che utilizzano quel sistema operativo lì. Io ti devo dire la verità, tutte le volte che mi metto in testa un quest, spero che parta, perché ogni volta c'è un rilascio nuovo, ogni volta cambia l'interattore, cambia questo, cambia quell'altro. C'è la nuova feature della quale sinceramente non sentivamo la mancanza, capito? Questo è un altro discorso ancora, questo è un altro discorso ancora, nel senso che il mondo dell'extended reality è un mondo nuovissimo. Non c'è ancora un linguaggio, non ci sono ancora degli standard, per cui siamo nel momento dei fratelli Lumière, quando c'era il treno che usciva dalla galleria e tutti scappavano perché non capivano cos'era quella roba lì. Anche lì, usare i manipolatori piuttosto che usare le mani nude eccetera, ci sono veramente tantissime considerazioni da fare su tutto quello che ancora non è stato capito e non è stato standardizzato, ammesso che verrà mai standardizzata questa roba, però io non riesco a togliermi dalla testa che da quando è nato il multitouch e adesso noi facciamo così sugli schermi anche non multitouch per farlo zoom, quella roba lì, quelle gesture lì sono diventate una nostra seconda natura. Io mi aspetto che succeda lo stesso anche per l'extended reality, per l'XR. E senti, altri attori ben posizionati, chi vedi? NVIDIA lo citavi prima per la questione del metaverso industriale, diciamo così. Assolutamente sì, poi loro sono potentissimi anche come sappiamo su intelligenza artificiale, anche questo qua è un binomio, intelligenza artificiale, metaverso, vanno di pari passo, una serve all'altra, anche questo è certo, se tu vuoi riempire uno stadio con un solo giocatore vero e 50.000 NPC, l'intelligenza artificiale è utile assolutamente. Cioè ci possono essere degli sviluppi incredibili, generazione automatica di contenuti mediante intelligenza artificiale, cioè scrivi un prompt e ti crea un universo, capisci che la cosa diventa... Invece Google, come lo vedi, un po' silente, ma fa i suoi accordi, diciamo, ancora però non vediamo risultati. Google è grande mistero, Google ha aperto e chiuso roba sistematicamente, Google, cioè sono quelli degli occhialini di cartone, ancora prima, non so se tu ti ricordi Google Lively, era una sorta di second life di Google, ma parlo di forse di 15 anni fa, una roba del genere che a un certo punto è scomparsa, non lo so, Google è veramente un mistero da questo punto di vista, non lo so, non mi sbilancio. Altri attori che vedi interessanti, se lo so, in Europa mi viene in mente vario, che comunque da un punto di vista tecnologico mi sembra ben messo. Allora, loro secondo me sì, ci sono un sacco di attori interessanti da un punto di vista tecnologico, appunto, però non basta, cioè quello che vince poi alla fine è l'ecosistema, è quello che ha fatto la fortuna di Apple alla fine, no, perché Apple è diventata Apple? Perché ti vende degli affari che si parlano tra loro senza problemi, fanno il backup da soli, tu lo compri, lo accendi e è pronto da utilizzare, c'è già su le robe che ti servono, e sono gli ecosistemi che vincono, sono gli ecosistemi che vincono. Purtroppo io di... uno che potrebbe fare degli ecosistemi incredibili è Google, ma appunto, vedremo, vedremo. Non lo so. Senti, vediamo al focus del libro, Metaverse Architect, questa figura, insomma, interessante di cui voi parlate nel libro. Ci spieghi chi è e poi vediamo insieme anche le skill che dovrebbe avere. Sì, allora, Metaverse Architect sostanzialmente è una figura mitologica, non esiste il Metaverse Architect secondo noi, perché, appunto, questi media, questa XR, questo Metaverse, è una, diciamo, una convergenza di tecnologie, una convergenza di conoscenze che è veramente spalmata a 360 gradi. Non è solamente una questione tecnologica, è anche una questione sociologica, è anche una questione antropologica. E quindi, in realtà, il nostro punto di vista è che per costruire degli ambienti, dei metaversi utilizzabili, utili, che abbiano successo, che poi abbiano un'adozione, è necessario tener conto del punto di vista dei pool di esperti, di costruttori. Quindi, sostanzialmente, ci vuole quello bravo, cioè l'esperto di interaction design, così come quello bravo a fare, a sviluppare tecnologicamente la cosa, al limite anche a scrivere del codice. Perché dico al limite? Perché ormai ci sono dei tool potentissimi, dove riesci anche a fare cose notevoli senza scrivere codice. Io sono un coder, scrivo codice da 40 anni, però quando vedo, tanto per cambiare, parlo ancora di Unreal Engine, in Unreal Engine ci sono i blueprint, cioè prima di arrivare alla necessità di scrivere roba in C++, devi veramente averne bisogno, ecco, perché con i blueprint fai veramente un sacco di roba. E quindi hai bisogno, per tornare al metaverse architect, in realtà deve essere un pool, perché poi hai bisogno di un sociologo, perché quella roba lì è importantissima, perché devi capire quali sono i motivi per cui tu stai proponendo un metaverso e a chi lo stai proponendo. Altrimenti rischi veramente di costruire l'ennesimo sistema dove non c'entra nessuno perché dice, perché? Cosa mi serve questa cosa qua? Cos'è che mi offre che io non possa già fare con un normale computer o con un telefonino o con qualsiasi altra roba? Ecco, è tutto lì, no? Cioè ci deve essere un valore aggiunto e questo valore aggiunto non basta una persona sola, secondo noi, per arrivare al set di feature che possono offrire questo valore aggiunto. Cioè devi anche capire qual è il tuo target e qual è il tuo target? Non è una roba che può capirla un coder, un coder non lo sa, capito? Un interaction designer già di più, ma comunque anche lui non è roba sua, non è roba sua. E senti, però tu parli anche, voi parlate nel libro anche di skill hard e soft che queste figure dovrebbero avere necessarie per avere successo, per emergere. Sì, beh, sì, sono appunto un po' queste. Vabbè, le skill hard sono appunto più legate ad aspetti tecnologici, sono molto più verticali, ecco. cioè diciamo che devono anche essere un po' tutte compenetrate in qualche modo queste skill. Il libro è scritto un po' anche per quello, nel senso che è un libro che se lo legge un sociologo comunque c'è un capitolo non troppo complicato nel quale parliamo degli engine per realtà virtuale, degli engine per videogiochi, dove molto alla lontana spieghiamo le cose che secondo noi è importante che tutti sappiano e viceversa, e viceversa. Quindi, appunto, come dicevi, varie figure, però l'aspetto, diciamo, tecnologico mi sembra comunque, diciamo, importante in quanto, diciamo che rispetto al passato ci sono varie tipologie di tecnologie che si vanno ad intersecare per la creazione di mondi digitali, no? Tu accennavi prima anche all'aspetto dell'intelligenza artificiale generativa, quindi secondo te oggi, cioè, se volessimo dare anche, come dire, un consiglio, no? Magari a dei ragazzi e delle ragazze che ci seguono, cioè quali sono i percorsi anche di studio da intraprendere, le materie magari più interessanti oggi da tenere d'occhio? Allora, sicuramente la faccenda dell'intelligenza artificiale ha un peso già adesso enorme e lo avrà sempre di più. Capire come funziona quella roba lì è fondamentale. Passo indietro, in realtà nessuno sa come funziona quella roba lì. Capire come funziona nel senso di capirne le potenzialità, cioè, poi, anche lì, diciamo che il mondo si spacca in due, perché ci sono quelli che dicono che certe cose, le intelligenze artificiali, non arriveranno mai a fare tutto il discorso sulla creatività, eccetera, il problema del diritto d'autore, tutte queste cose qui. Sono tutti temi aperti e lì è molto difficile dare dei consigli. Il mio consiglio personale è che uno deve, sì, va bene farsi dei corsi, però deve anche leggersi dei libri e farsi una sua idea. Cioè, ecco, per dire, questo qua, secondo me, è... Non so se siamo riflessi o se... Si vede bene, no? Si vede bene. Si vede bene. Questo qua, secondo me, è un libro fondamentale. Lo dovrebbero far leggere alle scuole superiori, questo libro qua. Perché è il libro che non ti dà delle risposte, ma ti insegna quali sono le domande quando parli di intelligenza artificiale. Perché non puoi parlare di intelligenza artificiale se non parli di intelligenza prima. Che cos'è l'intelligenza? Noi diciamo che un cane intelligente, un delfino intelligente, un formicaio intelligente, non le formiche, il formicaio ha dei comportamenti che non si spiegano andando in maniera riduzionistica a esaminare le singole formiche. Cioè, tutta questa cosa qui, tutto il discorso sui sistemi complessi, sono tutti temi che vanno assolutamente spiegati e studiati e insegnati nelle scuole. Altrimenti rimaniamo monchi. Cioè, così come adesso la maggior parte della popolazione odia la matematica, secondo me perché non hanno avuto la fortuna di avere dei docenti bravi che gliel'abbiano fatta amare sostanzialmente. Cioè, si pensa che la matematica, le batterie scientifiche, STEM, sia roba arida. In realtà sappiamo benissimo che non è così. Io lo so, tu lo sai, ma c'è un sacco di gente che dice ah, la matematica, che schifo, non ci capisco niente. In realtà non è vero che non ci si capisce niente. Questo è il discorso sull'intelligenza artificiale, quindi sicuramente intelligenza artificiale sì. Secondo me sarebbe importante fare almeno un corso proprio molto base, base, base sulla programmazione, anche se adesso si dice è inutile imparare a programmare perché tanto ci saranno le intelligenze artificiali che scriveranno il codice al posto nostro, eccetera, eccetera. Però questa, secondo me, non è una giustificazione sensata e capire almeno quali sono le basi della programmazione secondo me è importante. E poi, vabbè, assolutamente leggersi, che ne so, Norman, la caffettiera del masochista, testi chiave sull'interaction design, perché quello lì è un altro filone importante perché ci insegna che tu puoi fare tutti gli sforzi del mondo ma se tu non metti a disposizione qualcosa di usabile quel qualcosa non verrà usato. Cioè è assolutamente... Cioè se tu fai una porta con una maniglia che non vedi dove è la maniglia, la gente rimane lì e non riesce a aprire la porta, capito? E' proprio... Io tutte le volte che entro in un bagno di un locale pubblico e rimango lì più di sette secondi per capire come si fa a far venire giù l'acqua mi metto a ridere perché dico com'è che gli è venuta in mente a questo qui? Cioè inizi, metti lì la mano e l'acqua non viene giù. Allora guardi in giro. Poi guardi per terra se c'è il tastino per terra da schiacciare col piede. E' incredibile. Anche questa qui. Insomma ci sono un po' di... Ci sono sicuramente un po' di materie che dovrebbero venire studiate. Sicuramente, ripeto, se devo dare la precedenza a qualcosa, questa. E allora con questo tuo consiglio Aaron ti ringrazio. È stata una bellissima chiacchierata e insomma ti do appuntamento magari a una prossima puntata in cui magari nel momento in cui il metaverso prenderà una forma e ne dovremo riparlare. Grazie ancora. Grazie a te, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao.